Un'emergenza sanitaria che si è trasformata in una emergenza economica importante per il nostro territorio, soprattutto vocato all'export e che si è visto chiudere i mercati di sbocco. Quindi di conseguenza c'è stato un rallentamento evidente, anzi direi una chiusura netta dopo il lockdown e poi adesso una ripresa molto lenta perché ancora i mercati di sbocco, i nostri mercati di riferimento sono ancora chiusi. È un'istantanea dalle tinte davvero fosche quella che la Camera di Commercio di Arezzo e Siena ha scattato al territorio provinciale in occasione della diciottesima giornata dell'economia nel corso della quale sono stati presentati dati per niente confortanti dovuti alle pesanti ripercussioni economiche causate dall'emergenza Covid-19. Sono davvero drammatici sia per quanto riguarda appunto la salute dell'economia soprattutto di alcuni settori a cominciare da quello turistico anche dell'oro e anche la moda comincia a dare segnali davvero preoccupanti. Ovviamente abbiamo anche un'attenzione particolare così a un'economia domestica che ovviamente sta in qualche modo anche attendendo risultati ulteriori, anche diciamo normative che dovrebbero in qualche modo agevolarlo. Fra tutti penso ad esempio all'ecobonus e al sisma bonus in edilizia che come sappiamo essere uno dei settori, uno dei comparti che sono sempre trainanti a livello locale. Quindi dobbiamo in qualche modo capire bene quelle che saranno le modalità di intervento in questi campi e ovviamente tutto quello che potremo fare, ovviamente compatibilmente con appunto quelli che sono già stati di PCM che sono stati emanati, noi anche come Camera per poter sostenere la promozione soprattutto legata all'export e quindi all'internazionalizzazione delle nostre imprese che sono particolarmente vocate al mercato internazionale e evidentemente anche a tutte quelle provvidenze di carattere economico e finanziario a cominciare dalla liquidità che evidentemente non deve mancare, non può mancare alle imprese in questo momento che sono così in affanno. La provincia di Arezzo nel 2020 rischia un tracollo del 7% del valore aggiunto complessivo in billico 5.000 posti di lavoro nel commercio e potrebbero sparire addirittura 2.500 imprese, insomma una situazione difficile sul versante occupazionale. È aumentato vertiginosamente il numero delle ore autorizzate di cassa integrazione, sia di quella straordinaria che quella in deroghe ordinaria e soprattutto i fondi di solidarietà. Abbiamo raggiunto delle vette mai viste nel nostro territorio e in questo momento siamo abbastanza preoccupati per la ripartenza dell'autunno. Difficile al momento ipotizzare gli scenari possibili per il 2021. Ci sono scenari soft e scenari hard, come si dice, nel senso che abbiamo una possibilità, se non c'è una ricaduta, della pandemia di avere anche un rimbalzo a vu, come si dice, cioè quindi di avere un 2021 in cui recupereremo buona parte di quello che abbiamo perso nel 2000 e stiamo perdendo nel 2020. Lo scenario peggiore è ovviamente legato al ritorno in autunno di ondate epidemiche e che porterebbe sicuramente contraccolpi pesanti. Grazie. 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 Grazie.